Hai visto il Benigni? Hai sentito il Benigni? Non si è mai parlato tanto di Dieci Comandamenti come in questo periodo, dopo che Roberto Benigni li ha presentati in due serate televisive. Della faccenda si è parlato tanto, i giornali si sono interessati, tante domande, eccetera, eccetera. Ci soffermiamo un attimo anche noi, anche per entrare un pochettino nel vivo di questa questione dei Dieci Comandamenti. Certo, Don Giovanni, viene un pochettino da chiedersi, 10 milioni di persone incollate alla televisione per ascoltare uno che parla dei Dieci Comandamenti. Capisco quando aveva presentato la Divina Commedia, eccetera, magari c'è qualche interesse di più, c'è un discorso anche culturale. Qui invece è un discorso che di per sé è strettamente religioso. Allora, come la mettiamo qui? Le questioni religiose non è vero poi allora che finiscono con non interessare. Certo, probabilmente qui ci gioca il fatto che a presentarle c'era uno che sapeva anche come muoversi e come comunicare. Cioè, come lo leggi tu questo fatto appunto di 10 milioni di persone e tante altre che si sono interessate di questa faccenda dei Dieci Comandamenti? Beh, prima di tutto penso che il Signore non cessa di strabiliarci, perché penso che anche tu, Don Leone, chissà quante volte gli hai parlato dei Dieci Comandamenti ai ragazzi e anche agli adulti. Però stavolta tanta gente, penso sì, ecco, il modo magari con cui lui ne ha parlato, poi tramite la televisione, ma soprattutto perché forse non è il prete, tanto per noi preti a volte dicono lo fanno per mestiere, è sempre Steslaur. Invece questo qua che magari ha preso anche un premio nella letteratura e nel cinema, questo qui è Roberto Venini, è il Signore si serve a volte anche di personaggi e sappiamo che di cose religiose non deve parlarne solo il prete o la suora o il frate, ma ogni battezzato o in questo caso diremmo ogni persona di buona volontà, perché lì dentro ci sono dieci parole, ecco, dieci parole è come un manuale di istruzioni. Quando compi la macchina, dici ti raccomando, cambia le candele, ti raccomando l'olio, ti raccomando i pneumatici o compri la lavatrice, così Dio ha detto, vabbè vuoi diventare uomo? Ecco il libretto di istruzione, prendilo in considerazione, leggilo, se no guarda che ti salta qualcosa e lui a livello molto umano si è messo a fare questo e ha avuto tanto successo, tanta gente che lo ha ascoltato. Però c'è questo fatto, noi diciamo i dieci comandamenti e forse la cosa parte male per far capire che sono cose importanti per la crescita della persona, per manifestare un po' la propria dignità ed esprimerla bene nel sentiero della vita. Difatti nel testo originale non si parla di comandamenti, tu hai usato il termine le parole, le dieci parole, non hai un po' l'impressione che tanta gente appunto prenda le distanze dai comandamenti perché detto così sono un po' come delle gabbie dentro le quali uno si vede rinchiudere. Quando c'è un comando la tentazione è un pochettino quella di cercare di evitarlo o di sgattagliare via, dire forse dieci parole o dieci sentieri magari potrebbe dire qualcosa di meglio e di più, non ha giocato male forse il termine con cui noi abbiamo appunto tradotto e indicato queste istanze che Dio ci dona. Sì, vengono un po' queste cose dalla mentalità dove un tempo il prete, il parroco, il maestro non è che proponesse, si imponevano dicendo guarda sono addirittura un regalo, sono dieci strade, quindi vengono da un tempo. Oggi qualunque cosa che viene dall'alto viene rifiutata, quindi bisogna forse anche proporli in una maniera diversa. Però sono come dieci strade perché un uomo possa diventare veramente grande. Cioè se noi stiamo un po' così anche alla Bibbia a cui Benini ha fatto accenno ma anche noi, cioè uno se è bravo nel mondo guardando l'universo ne ha tanti dei motivi per meravigliarsi e per dire che bello questo universo che meraviglia, io sono il capolavoro di Dio. Dio poi nella storia ha voluto dire magari qualcuno si sbaglia, prende dei sentieri sbagliati e allora gli ha detto guarda leggi queste dieci cose come dieci istruzioni e questo manuale per rendere bella la tua vita e quindi ecco sono le proposte di Dio perché l'uomo diventi sua immagine. Poi addirittura Dio, siamo appena venuti via adesso e nel tempo lì tu hai detto così, non basta l'universo, non basta non ti dici parole, guarda ti regalo mio figlio, tu guarda mio figlio, lui è veramente la realizzazione di tutto quello che io ho in mente. Quindi se proprio leggi male l'universo, qui c'è male l'universo, c'è anche la violenza. Ecco un prototipo, un'immagine, è mio figlio, lui realizza proprio quello che tu dovresti essere. Tant'è vero che Gesù viene chiamato il verbo di Dio, la parola di Dio, quindi van bene le dieci grandi parole che sono appunto questi che noi chiamiamo comandamenti, ma la parola è evidente, la parola fatta carne che quindi vive la nostra stessa situazione, ci indica vivendo come si fa ad essere uomini veri, è il verbo di Dio, Gesù Cristo è il fatto uomo. Questi dieci comandamenti tra l'altro si introducono con una frase che noi nelle diciture catechistiche non abbiamo. I dieci comandamenti non partono con io sono il Signore Dio tuo, ma ascolta Israele e questo termine fa parte di questi inviti, di questi comandamenti, di questi sentieri, anzi probabilmente è il quadro di fondo che dà senso anche a tutti, ascolta Israele. Shema Israele, non Shema, Shema quindi ascolta Israele e dici ascolta Don Giovanni, ascolta Cinzia, ascolta Loretta, cioè prima cosa che devi fare non è discutere con me o inventare dei casini, la prima cosa che devi fare è ascolta quello che ti dico, dopo parlerai, dopo magari potrai ribattere, potrai dire che non vanno bene, prima ascolta e ascoltare non è sentire, ma è interiorizzare, cioè pensaci su un momento, siamo qui nella nostra valle seriana, no? Alcora qualcuno ha visto le mucche, le mucche quando mangiano alla svelta, poi ruminano, cioè riprendi, cerca di ruminare, di riflettere su queste parole, poi al limite tu mi dirai come la pensi, quindi è molto importante questo Shema Israele, impara ad ascoltare nel silenzio il tuo creatore, il tuo Dio che ti dice cose saggie, sapienti e di solito questo non lo ricordiamo mai. I dieci comandamenti, intanto tutti sanno chiaramente sul monte Sinai, Dio chiama Mosè che stava conducendo il popolo attraverso il deserto verso la terra promessa e consegniamo a Mosè due tavole, su una tavola ci sono tre comandamenti, sull'altra tavola ci sono sette comandamenti, uno dice ma non poteva bilanciarli un pochettino anche perché quando dobbiamo stamparli eccetera, tre e sono larghi, su una pagina, tre appena parole, sull'altra invece quasi quasi non ci sta neanche perché sono addirittura sette, ma c'è un senso in questa immagine delle due tavole, della divisione che c'è tra i comandamenti come Dio l'ha proposta a Mosè? Beh poi c'è anche il titolo, io sono il Signore Dio tuo, perché uno dice il denaro è il mio Dio, fa giù altri comandamenti, il fregare la gente è il mio Dio, fa giù altri dieci, altri dieci cose da fare, quindi se tu mi accetti ecco le prime cose che devi tener conto sono per me, quindi non dimenticarti di me, ma guarda anche Gesù che incroce il palo orizzontale, il pale verticale riguarda Dio, poi c'è un palo orizzontale, quindi la prima cosa è la verticalità, Dio, l'uomo è Dio, poi le altre cose riguardano l'uomo e l'uomo, comunque queste cose che tante volte uno vorrebbe a volte una vita, un cristianesimo tutto orizzontale, ma se manca questo sostegno non sta in piedi niente, perché dice perché non rubare, perché non farla franca, perché non dire bugie, perché non fregare la donna agli altri, ecco perché non ammazzare uno che ti sta sulle scatole, ecco devi tenere presente quella cosa verticale, cioè il tuo rapporto con Dio, cioè le cose stanno in piedi, anche i tuoi rapporti umani, se non ti dimentichi che Dio ha creato le cose così, anche nelle prime pagine della Bibbia ci sono, al centro del giardino dell'universo, ci sono due alberi, uno della vita e uno del bene e del male, tu non impossessarti della vita, cioè non devi cambiare le cose del mondo e non devi decidere ciò che è bene e ciò che è male, non mangiare queste due cose, perché se le mangi sei finito, ecco allora il Signore dà ancora queste due tavole per dire ricordati, non mischiare tutto, al primo posto ci sono io, quindi è proprio questo che l'uomo si deve ricordare, che non è lui il padrone dell'universo, ma che qualcuno per amore ha pensato a lui, è solo per il suo amore, perché a Dio non ne frega niente che l'uomo preghi, ma solo per il suo bene, ricordati che io ti ho creato così. Ecco tu hai avuto l'opportunità, io non tantissimo, di vedere questa trasmissione appunto in cui Benini presenta i Dieci Comandamenti, ecco qualche motivo positivo e bello che ti è sembrato sia stato ben evidenziato da questo comunicatore della televisione. Beh, prima di tutto Benini è bravo, è credente, probabilmente forte, è anche un presentatore astuto, perché i problemi grossi che magari oggi nella società fanno un po' litigare la gente, magari anche allontanare dalla Chiesa, non li ha tanto toccati, motivi ad esempio sulla sessualità, lui ha detto appena che la sessualità riguarda tradire la moglie o tradire il marito, ma ce ne sono altri aspetti della sessualità importanti. Così diciamo è stato molto bravo anche nel lasciar perdere quello che è ad esempio il fatto che il cristiano celebra i sacramenti, ad esempio vada a messa, si confessi, non ne ha parlato, perché riconoscere Dio vuol dire anche ascoltarlo, non solo fare. Insomma ha fatto un po' delle riunie sui italiani che, diciamo così, che rubano, però non avendo la fede rubi anche l'anima alle persone, ci sono tanti aspetti anche spirituali. Quindi per me è stato molto bravo, però anche molto astuto e un po' incompleto su quanto riguarda, diciamo, l'aspetto poi anche della pratica, perché noi preti, che parliamo spesso dei dieci comandamenti, aggiungiamo anche altre cose, cioè non stiamo solo sulle cose che possono oggi fare un po' di prurito alle orecchie e, diciamo così, suscitare un po' di discussione. È stato bravo, però poi vanno approfonditi anche nella pratica, perché noi non siamo solo ebrei, noi siamo anche adesso cristiani, cioè abbiamo incontrato Gesù Cristo e Gesù Cristo ha affidato questo anche a una comunità che si chiama la Chiesa. Ma quel fatto, per esempio, dice io sono il Signore Dio tuo, mi pare che abbia accentuato forte questo pronome tuo e abbia evidenziato un fatto che tanti forse non percepiscono, non abbiamo a che fare con un Dio fumoso, con un Dio lontano, con un Dio generico, il Dio tuo. Non so, ecco, se ripeto positivamente, a parte le note che hai fatto su cose che forse sono state un po' evitate, chissà per quali motivi, positivamente, ecco, quali sono stati i motivi che sono venuti all'evidenza e che forse hanno lasciato, questo sì, meravigliati in senso positivo tanta gente. Beh, prima di tutto io positivo il fatto che il Signore ha messo attraverso Benini il fatto che lui non è un assente dalla storia ma che esiste, provvede e si interessa. Seconda cosa, in un mondo dove gli uomini non sanno più dove, deve cominciare da dove, ecco, comincia a costruire la tua vita su queste dieci cose belle che Dio ti dice, comincia a costruirti tu così. Seconda cosa, non pretendere che gli altri diventino così, comincia da te, dall'avere incontrato Dio, quindi tu sei un uomo nuovo e non chiederti più quello che lo Stato, la Chiesa deve fare, ma comincia da te ad essere un uomo nuovo e cominciare da dove? Ecco, la luce viene da queste cose. Cioè, cominciare da dove bisogna fare che il tale non faccia la guerra che il tale altro, no, comincia ad ascoltare queste cose perché il Signore non solo esiste ma vede, provvede, si interessa proprio di te, per il tuo bene. Quell'altra espressione dice non nominare il nome di Dio in vano, anche lì forse noi l'abbiamo un po' ridotto questo comandamento, non bestemmiare, chiaramente per carità, la bestemmia è qualcosa di, anche di maleducato oltre che di irreligioso, ma mi pare che abbia detto qualcosa di più sul non nominare il nome di Dio in vano. Ma pensiamo ad esempio un modo di nominarlo in vano, Hitler sui suoi carri armati aveva detto Gott mit uns, Dio con noi e ammazzava la gente, Saddam altre persone, cioè nominare il nome di Dio in vano vuol dire far fare a Dio cose che lui non ha mai pensato, ad esempio usarlo per la violenza, usarlo diciamo così per motivi religiosi, per dividere la gente, quindi non è solo non bestemmiarlo ma capire che il nome di Dio ha un significato di amore, ha un significato di provvidenza, ha un significato di attenzione, ha un significato di tenerezza e non usare Dio per fare ad esempio del male, non è solo la bestemmia o per caso tante volte lo si nomina così, ma addirittura il nome di Dio viene usato impropriamente, addirittura era sui carri armati, Gott mit uns, Dio è con noi immaginarsi, Dio è con noi nell'ammazzare la gente, questo vuol dire bestemmiarlo il Signore, nominarlo in vano, anzi sarebbe meglio non tirar dentro almeno Dio e dire facciamo quello che ci abbiamo voglia noi, abbiamo anche oggi una religione lì nel famoso califato che in nome di Dio fanno delle stragi e questa è una bestemmia, è nominare in vano e bestemmiare Dio. I dieci comandamenti, nel Vangelo Gesù dice io vi do un comandamento, come la mettiamo adesso? Sono dieci oppure sono stati mandati in pensione i dieci comandamenti e ne è stato tirato fuori solo uno oppure quest'uno ha a che fare con tutti i dieci comandamenti? Un'unica parola, un unico insegnamento che riassume tutto, di fatti amatevi come io vi ho amato, quindi io guardo a Gesù i primi tre, i primi tre guardo a Gesù come ci ha amato lui e devo fare negli altri sette come ha fatto lui, quindi devo essere sincero come lui, devo promuovere le persone come ha fatto lui, devo rispettare la gente come ha fatto lui, devo appassionarmi alle cose ma non attaccarmi come ha fatto lui, quindi amatevi come io vi ho amato, li riassume tutti perché nella prima parte noi vediamo come Dio, come lui ha onorato Dio e come è Dio e nella seconda parte vediamo come noi dobbiamo rapportarci con gli altri, quindi il comandamento questo è antico perché viene dai dieci, ma è anche nuovo perché adesso abbiamo l'esempio di come metterli in pratica perché dice si fa presto a parlare e no, c'è uno che non ha solo parlato, li ha messi in pratica tutti ed è antico ma è anche nuovo perché è la testimonianza di Dio che vive così. Praticamente è un po' il filo d'oro, il filo rosso che li riassume e li raccoglie tutti l'amore, ecco questo direi è un po' quello che Gesù è venuto a vivere e a indicarci dicendo che tutto quello che il Signore in fondo ci propone si riassume proprio qui, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, amerai il prossimo tuo come te stesso, anzi dirà Gesù amatevi come io vi ho amati, qui i dieci comandamenti trovano veramente intanto la loro sorgente ma anche il loro significato e soprattutto ecco sono comandamenti che hanno un cuore che pulsa ed è il cuore dell'amore che dà significato a ciascuno e a tutti i comandamenti anche dell'antica legge ma soprattutto qualificano la legge unica e dolcissima del Vangelo che è appunto questa di un Dio che ci ama perché accogliendo il suo amore anche noi sappiamo un po' essere capaci di amare intorno e questo è anche il modo per seminare speranza, per seminare gioia, per essere collaboratori del disegno buono di Dio sull'umanità. Grazie Don Giovanni, grazie a voi che ci avete seguito, andate a leggervi magari o a rileggervi i dieci comandamenti e poi magari andate a rileggervi qualche pagina del Vangelo che raccoglie è tutto e con questo buona domenica.